Chiaramente per me è un grandissimo piacere avere oggi i colleghi del CNR di due istituti diversi dell'area della ricerca di Pisa, quindi abbiamo Riccardo Del Gratta dell'Istituto di Linguistica Computazionale e Francesco Sarnari dell'Istituto di Biofisica e successivamente ci raggiungerà anche Angelo Del Grosso sempre dell'Istituto di Linguistica Computazionale. Non vi faccio perdere altro tempo e passo la parola subito ai nostri relatori. Allora, salva a tutti, mi chiamo Riccardo e la presentazione la descriverà Francesco. Io manderò le slide, ora vi condivido lo schermo. Ciao a tutti, mi chiamo Francesco e oggi vi racconto il nostro progetto di formalizzazione dei documenti. Questa formalizzazione è generale e si applica a molti domini, tra cui Linguistica Computazionale, Filologia, il trattamento delle immagini, ma anche, come vedremo, a spartiti musicali. Dopo un'introduzione generale, proporrò alcuni esempi di documenti e cercheremo di notare alcuni aspetti comuni, siano essi significativi o meno. Questo ci porta alla formalizzazione proposta. Prima delle conclusioni, introdurrò il modello all'interno dei Domain Specific Languages, o DSL. La parte finale verterà su una serie di domande e risposte concordate, in modo da chiarire alcuni aspetti del modello. Ovviamente, poi ci sarà spazio per ogni altra domanda e per discussione. Cercherò di mostrare che un generico documento può essere rappresentato come il risultato dell'interazione tra tre parti ben individuabili, anche se non facilmente isolabili. Le parti che abbiamo identificato sono un content, ovvero la sequenza dei caratteri, un formato, ovvero come il contenuto è disposto, e un livello paratestuale, che contiene informazioni addizionali. Non essendo nessuno degli autori dei linguisti o dei filologi, per evitare fraintendimenti o macroscopici errori, verificheremo il modello sugli spartiti musicali, il che dimostra anche la portabilità del modello stesso. Vai. Il primo esempio che mostriamo è un passaporto, e il secondo è una pagina web piuttosto densa di informazioni, e poi, come ulteriore esempio, prendiamo un foglio di appunti. Come ogni foglio di appunti, questo è un tipo non strutturato. Una parte rimanda ad altre, e ci sono frecce e puntatori che connettono porzioni di testo. Infine, come ulteriore esempio, portiamo uno spartito musicale. Questo esempio ci è utile per introdurre le componenti, contenuto, formato e paratesto. In questo spartito, le note sul pentagramma non assumerebbero significato, frequenza, se le chiavi di violino o basso non fossero indicate. La frase musicale, ovvero quello che lo spartito trasmette, è poi completata dalle annotazioni, come il fortissimo, il pedale, legature, eccetera. Vai. Gli esempi mostrati, gli esempi proposti mostrano che i documenti hanno un livello che possiamo definire informativo, uno organizzativo e uno addizionale. Certamente non è facile identificarli o separarli, ma è importante capire che ci sono, che esistono. Abbiamo visto che i documenti hanno una specie di layout che il contenuto è sparso sul documento, che il documento gioca ruoli diversi e che il contenuto diventa informazione a seguito di un processo. Vai. Nell'esempio del passaporto, il contenuto, sono i timbri, non è importante dove essi siano collocati, ma che ci siano. Possiamo dire che l'apparenza, ovvero come il documento appare, ha poca importanza. Mentre nel caso della pagina web densa l'informazione, in questo caso il layout è complesso, le varie parti del test sono collegate e messe in relazione fra loro. Vediamo anche l'uso di un font diverso, come l'italico, per aggiungere ulteriori informazioni. Vai. Infine, nel caso del foglio di appunti, questo esempio è interessante. Sono note prese in diretta e quindi non strutturate. Si vedono parti di testo collegate tra loro e alcune hanno frecce e puntatori. Anche le frecce e i puntatori sono contenuto, ma giocano un ruolo diverso. Vai. Lo spartito musicale, infine, ci aiuta a identificare le tre componenti di un documento, almeno da un punto di vista visivo. Le note sul pentagramma acquistano significato, frequenza, non solo grazie alla loro posizione, ma anche alle chiavi, agli accidenti. Inoltre, le legature e annotazioni, come il pedale o fortissimo, aggiungono un'ulteriore contenuto. Vai. Procediamo adesso con la formalizzazione di quanto abbiamo visto appena adesso in questi esempi. documento D è funzione di tre componenti, content, C, formato, F, e un livello paratestuale, P. Documento è un termine generico, copre il testo, le immagini, la multimedialità, audio, video. Per questi ultimi casi, il termine formato è maggiormente familiare. Chiaramente, la definizione data è riduttiva e difficilmente copre tutte le tipologie, ma è utile per poter partire con una formalizzazione, non solo dei documenti, ma anche delle operazioni che si effettuano su di essi. Vai. In questo caso, l'imbuto, come vedete, fornisce un'efficace metafora per rappresentare come le tre componenti cooperino a formare il risultato finale. Nel documento D che esce dall'imbuto ci sono ancora il content, il formato e i livelli addizionali, ma non sono facilmente distinguibili. Come analogia, si pensi ad una miscela di acqua ed olio. I componenti originali ci possono essere separati sfruttando la diversa temperatura di ebollizione. Vai. Come ulteriore esempio, possiamo portare il mixer, che fornisce anch'esso una buona metafora. A differenza dell'imbuto, le componenti che entrano nel mixer perdono la loro identità. è come un frullato di frutta, è l'insieme che crea il sapore. Come ulteriore metafora si può pensare ad una torta, la quale ha componenti ben identificabili. Il piatto e il formato, la marmellata e il content, la crema e la crema e il paratesto. noi chiamiamo i documenti in cui le tre componenti siano identificabili siano sia identificabili che separabili documenti cartesiani o appunto separabili. Assumiamo che le componenti C, F e P siano indipendenti. Il documento è descritto dicendo qualcosa su C, qualcosa su F e qualcosa su P così come un punto P è identificato dalle proprie componenti. Non è il caso di entrare nello specifico delle teorie cartesiane o separabili. Gli interessati hanno la possibilità di fare domande dopo se vogliono. La cosa importante è capire che il senso del prodotto cartesiano sta proprio nel fatto che content formato e paratesto giocano il ruolo delle coordinate di un punto in un piano cartesiano. Vai. il punto D nello spazio è identificato dalla terna C F P dove cambiare anche una sola componente significa identificare un punto quindi un documento diverso nello spazio. nella figura qui in alto l'oggetto O consiste di n parti non interagenti le parti P1 Pn vivono di vita propria nel senso che agire su una componente non implica necessariamente agire sulle altre nella figura in basso invece il segno di disuguaglianza suggerisce che le componenti P1 Pn siano legate e che agendo su una si influenzino pure le altre vai nella slide qui sono mostrate alcune possibili relazioni tra le varie componenti nella prima non ci sono dipendenze nella seconda ogni componente Pk dipende da P1 mentre la terza mostra dipendenze più complesse per essere chiari pensiamo alla circonferenza di raggio unitario x quadro più y quadro uguale a 1 si può vedere come una funzione f di x y con due variabili indipendenti che ammette come soluzione tutte le coppie del piano x y che soddisfano il vincolo appunto x quadro più y quadro uguale a 1 ma anche come una funzione di una sola variabile indipendente x e una dipendente y uguale radice di 1 meno x quadro e che ammette come soluzioni le coppie del piano x e radice di 1 meno x quadro ovviamente a meno della della soluzione negativa ottenuta come simmetria per riflessione vai passare da un documento di funzione di qualsiasi cfp a un documento separabile significa identificare e scoprire eventuali dipendenze tra le varie componenti in modo che sia possibile estrarre da una componente il valore di un'altra questa possibilità è garantita dagli estrattori negli esempi proposti in questa slide si suppone che parte del content sia nel formato ma che sia possibile isolarlo come avviene in alcuni file xml nel primo esempio l'estrattore estrae la parola home mentre nel secondo estrae sia la parola home che la sua part of speech la prima da f e la seconda da p vai è possibile suonare questo lo spartito in alto ma non quello in basso infatti mancano informazioni relative alle chiavi e agli accidenti e tale informazione è necessaria per associare alle note la giusta frequenza vai nello spartito originale possiamo individuare il contenuto il formato e il livello paratestuale come abbiamo riportato sulla slide associamo il contenuto con le note e la loro durata il formato con le convenzioni grafiche e il paratesto con le informazioni aggiuntive le motivazioni sono le seguenti una nota ha una sua durata un quarto un ottavo ma la sua frequenza è data sia dalla sua posizione sul pentagramma che dalla chiave oltre che dagli accidenti ed è qui dove il formato diventa importante inoltre il livello paratestuale aggiunge informazioni che sono fondamentali sia per il contenuto le legature tra le note ad esempio che per la resa finale fortissimo il pedale vai dato che il content è presente sia in F che in P definiamo due estrattori il primo ci dice che parte del content è presente in F le note hanno bisogno di chiavi e accidenti il secondo che parte del content è presente in P ovvero le legature eccetera in parole gli estrattori sono funzioni in grado di isolare una o più componenti dalle altre ovviamente le specifiche degli estrattori dipendono da caso a caso nell'esempio dello spartito informazioni di contenuto ovvero che servono per suonare correttamente la melodia sono contenute anche nel formato e nel paratesto gli estrattori dicono ehi la chiave è di violino per cui la prima nota è un la naturale l'estrattore dal paratesto dice le prime quattro note devono essere legate e così via vai per esempio come content nota numero uno la condurata un quarto nota numero due sol condurata un quarto eccetera il formato dice che la chiave è di violino e la tonalità don minore il paratesto aggiunge come le note vanno suonate innanzitutto spero di non aver fatto errori musicali una struttura come quella presentata potrebbe venire usata per creare un file da passare ad un pc è importante notare che assomiglia molto ad un file risultante da una notazione standoff vai se lasciamo le note nella stessa posizione sul pentagramma ma cambiamo la chiave la frequenza cambia questo significa che se facciamo un'operazione su un documento di otteniamo un nuovo documento di primo diverso dal precedente e questo viene approfondito qui nel seguito vai si assume di avere un'operazione OP che mandi documenti in documenti questa operazione consente anche di dire che di primo ha le stesse componenti c primo f primo o p primo ma non possiamo dire che sotto quell'operazione OP la il content c è mandato nel content c primo cosa che invece possiamo dire se il documento è separabile quando i documenti sono separabili anche le operazioni su di essi possono essere pensate come separabili il senso risiede nel fatto che possono essere eh 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 what happened here che il disegno del fatto che possono essere identificate le singole operazioni che agiscono sulle singole componenti in modo simile a quando si traslano separatamente le coordinate di un punto l'oggetto finale è ancora un punto ma con coordinate diverse l'operazione di traslazione agisce su un punto ma agisce separatamente su ogni sua coordinata nell'esempio dello spartito musicale ne abbiamo cambiato chiave ma non le note e neanche le informazioni abbiamo agito solo sulla componente F in questo caso si dice che sulle componenti si e pi ha agito l'identità ovvero il far niente cambiando la chiave musicale ma lasciando le note nelle stesse posizioni otteniamo ancora un brano musicale ma totalmente diverso dal primo se volessimo mantenere il risultato acustico allora dovremmo anche cambiare le note otteneremo allora un brano isomorfo al precedente vai un breve riassunto un documento separabile è una terna CFP ovvero possono esserci degli estrattori in grado di separare le componenti stiamo avviandoci verso la conclusione dell'intervento ed è opportuno inserire ora qualcosa di maggiormente linguistico e o filologico parliamo genericamente di annotazioni una pratica comune ma senza entrare troppo nello specifico ma solo per inquadrare il modello cartesiano ad esempio ci possono essere annotazioni morfosintattiche come la part of speech e la lemmatizzazione annotazioni semantiche ovvero assegnare il senso di una parola in un contesto oppure si può tokenizzare un testo ossia individuarne le componenti l'identificazione dei caratteri eccetera ma abbiamo anche la possibilità di collegare una parte di testo ad altre tutte sono possibili sia con sistemi in line più vicini a un documento non separabile che stand off più vicini ad un documento separabile vai annotare in line significa aggiungere direttamente nel testo delle annotazioni per esempio consideriamo un testo annotato con tag XML se di questo sistema conosciamo completamente il significato di ogni tag e attributo allora è possibile separare il testo vero e proprio dalle annotazioni appunto grazie agli estrattori in caso contrario il documento va considerato nella propria interezza analogamente una struttura stand off nasce già separata quello che serve è un collegamento tra le componenti i domain specific languages rappresentano un passo avanti a seconda della grammatica scelta il DSL può consentire ai ricercatori di fare riferimento a parti di testo a singole parole a singoli caratteri a parti di parole è anche possibile collegare documenti a documenti vai con i DSL è possibile aggiungere molte informazioni e queste informazioni possono essere di diverso tipo da semplici annotazioni ad annotazioni più complesse o riferimenti incrociati tra documenti per questo secondo il nostro modello il suo posto è P essendo di base un'annotazione standoff è facile estrarre informazioni dal paratesto al contenuto vai nel nostro intervento abbiamo mostrato un modello per la formatizzazione dei documenti attraverso le loro componenti C P NF una possibile semplificazione attraverso i documenti cartesiani abbiamo visto che un'operazione manda documenti in documenti e che se i documenti sono separabili anche le operazioni lo sono abbiamo messo in relazione i formati di annotazione con la separabilità dei documenti e introdotto i DSL abbiamo concluso che i DSL rappresentano un passo avanti verso la separabilità dei documenti stessi dopo le conclusioni rispondiamo a tre domande prima di aprire la sessione di question and answers vera e propria a te la parola Riccardo buonasera nuovamente vi ringrazio dell'attenzione il modello che è stato descritto da Francesco fa parte di un progetto più ampio e più vasto all'interno del Coffee Lab all'ILC noi abbiamo pubblicato varie parti di questo modello in conferenze diverse e quindi durante la la stesura e il nostro brainstorming sono emerse alcune domande che abbiamo provato a riassumere nelle tre che ora io vado a descrivere a voi lasciando poi chiaramente spazio per la curiosità di tutti sperando che ci siano anche altre domande a cui posso rispondere allora la prima domanda è quali vantaggi comporta la consapevolezza della separabilità delle componenti di un documento ce ne sono molte noi abbiamo focalizzato solo due due aspetti un aspetto legato alla modellazione quindi al formalismo e un'altra invece legato alle operazioni che in effetti possono essere fatte sui documenti la prima è che avere documenti separabili permette di disegnare separabili operazioni separabili e quindi infine a realizzare servizi maggiormente atomici da un punto di vista implementativo abbiamo invece la possibilità di operare su una singola componente e quindi possiamo siamo in grado di isolare sia le componenti che le operazioni da fare sulle componenti vediamo in questa slide noi abbiamo nella parte A un'operazione OP che manda un documento D nel documento D' abbiamo visto che sia D che D' sono documenti quindi hanno le componenti contenuto formato e paratesto quindi se il documento è separabile quindi abbiamo l'operazione che manda il contenuto di D nel contenuto di D' il paratesto di D nel paratesto di D' eccetera nella parte B se vediamo il servizio definito sulla concatenazione sulla convoluzione delle operazioni possiamo anche immaginare che possiamo fare nella parte rossa in C un servizio singolo sulla singola operazione quindi come come un documento è una tripla così le operazioni sono una tripla così i servizi atomici possono essere visti come come una tripla è chiaramente una una modellizzazione del caso più semplice un'altra 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 un'altro esempio prendiamo la la frase mi casa è stu casa dove il tu è in italico se noi siamo interessati a contare le parole possiamo dimenticarci che il tu sia italico quindi se io conto mi casa è stu casa con l'italico e mi casa è stu casa senza italico o comunque se non ho sbagliato i conti cinque parole ma se invece noi siamo interessati a qualcosa legato alle opinioni o ai sentimenti ma molto probabilmente il tu in italico veicola informazioni diverse per cui se noi facciamo una struttura come quella in slide in cui dico che il token 3 è in italico possono esserci dei tool in grado di mettere insieme queste informazioni e di e di elaborarle la seconda domanda potete fornire un esempio di documenti tra loro isomorfi isomorfismo è un complesso è un diciamo un concetto complicato e non è ora la sede di discuterlo nella nella sua interezza il modo più semplice di dire è che si può andare se di e di primo sono isomorfi allora possiamo andare da di a di primo e viceversa e la cosa importante è che non perdiamo informazioni se vogliamo provare a formalizzarlo assumiamo l'esistenza di una funzione f che manda di in di primo allora deve esistere anche una funzione g che manda di primo in di ed f e g sono una all'inversa delle altre in fondo in fondo alla slide c'è proprio questa concatenazione passo da d a di primo attraverso f e da di primo a di attraverso g e quindi sono rimasto sullo stesso documento iniziale perché non va ora abbiamo parlato di spartiti musicali e sempre se non ho fatto errori perché io ormai non faccio musica da più di di venti anni queste note dovrebbero avere la stessa frequenza quindi se io cambio se io cambio da chiave di violino a chiave di bassa da chiave di bassa a chiave di violino io in realtà se andassi su un pianoforte a suonarle o la parte sopra o la parte sotto dovrebbero sono le le stesse note quindi due documenti sono l'uno isomorfo all'altro posso andare dall'uno all'altro senza perdere informazioni ma anche se mi limito a un insieme di un sottinsieme di operazioni come per esempio contare le parole mi casse sto casse in orizzontale o mi casse sto casse in verticale sono documenti isomorfi questa è una domanda molto tricky ritenete che l'evoluzione dei formati dovrebbe tenere maggiormente in conto la reversibilità e la separabilità allora la risposta che ci siamo dati è la seguente la reversibilità è fortemente connessa all'isomorfismo cioè la possibilità di passare da un documento a un altro anche in formati differenti e soprattutto senza perdere informazioni la separabilità abbiamo visto che può semplificare la reversibilità dato e grazie al fatto che possiamo isolare le componenti prendiamo questo esempio allora il documento di iniziale è sempre la mi casa e sto casa dove io ho aggiunto un tag word ad ogni token ogni parola mentre la parte 2 è sempre la stessa frase mi casa e sto casa ma ho messo un tag di sentence se io passo da un formato txml a un formato xhtml perdendo l'informazione ovvero mappando sia word che sentence nell'attributo html span io non ho fatto un documento isomorfo è vero l'informazione sta lì ma io ho perso il fatto che in uno avevo una separazione a parole mentre in due avevo una separazione a sentence a frase mentre io posso andare tranquillamente da il primo formato da d a d secondo basta aggiungere ad esempio un attributo classe nei tag html in questo modo io posso sapere che nel primo caso la classe è una parola nel secondo caso la classe è una frase ci mancano delle virgolette quindi uno può andare non può andare indietro da d' primo a d ma lo può fare da d' primo primo a d in questo modo d' primo primo e d sono documenti isomorfi ancora un altro esempio dove la reversibilità e la separabilità dovrebbero almeno in linea teorica giocare un ruolo importantissimo nel processo di mapping in ud nel progetto universal dependencies c'è il verb come part speech come parte del discorso se consideriamo la frase io mangio una mela dove mangiare è taggata con questa part speech che è verbo indicativo prima persona singolare quando uno mappa questa part speech molto informativa verso verb molte informazioni sono per tutte perché la prima è notoriamente più informativa della seconda quindi io non posso più tornare indietro da verb a vmi p1 s0 consideriamo questo esempio un processo di mappatura reversibile la scatoletta di mapping prende due input una è la parola da taggare e una è la sua part speech e restituisce tre output la stessa parola la nuova part speech e la vecchia part speech la separabilità dei documenti permette di collegare la vecchia part speech alla nuova part speech dicendo a livello paratestuale la connessione tra le due in questo modo in questo modo il processo di mapping è un processo reversibile processo di mapping mi piace processo di mapping ok anche il nuovo formato conl è disegnato per tenere traccia del valore originale ad esempio nell'esempio che abbiamo visto che ho messo qui nella slide il la parola originale italiana nel nel è stata tokenizzata come in più il ma questo nuovo formato tiene traccia che in più il è collegata a nel in questo modo io posso tornare anche verso il documento originale nei vecchi formati era era perso io credo di avervi tediato ben oltre 45 minuti concessi siamo a 44 questo è veramente tutto per quanto riguarda me e Francesco e ora lascio a voi se siete interessati per qualche altra domanda Federico devo continuare ad avere la condivisione dello schermo direi di allora beh intanto vi ringrazio moltissimo e no puoi chiudere la condivisione dello schermo e adesso darei spazio a un paio di domande ok perché appunto i tempi purtroppo stringono e le domande potrebbero essere veramente moltissime però abbiamo anche la presentazione di Angelo quindi io darei veramente spazio a una massimo due domande ora per poi dare spazio alle domande finali non so se siete d'accordo anche voi l'importante è che non siano spaventati no scusate un ottimo io intervengo perché mi conoscete ormai non so se mi avete affiliato oppure no ma chiedo scusa ma voglio dire questa cosa io allora la mia mente sta fumando ma non sta fumando perché il professor del gratta per quello che ha detto è chiarissimo per me perché io ho fatto degli studi in proposito ok solamente che mi ritrovo di fronte a un tipo di formalizzazione che è diverso lo trovo molto interessante ecco voglio farlo fare una domanda solo questo voglio fare chiederei poi lo farò io privatamente avrò bisogno ancora di chiarimenti perché io devo capire io sto studiando da un anno un anno la teoria quantistica di Fano è un anno pertanto per noi linguisti il punto di incontro diventa difficile è chiaro allora voglio chiedere questa cosa che mi ha richiesto a proposito della separabilità dei documenti e dell'isomorfismo che provoca questi 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 parsing rimovibili queste parti rimovibili io parlo in termini semplici di frasi in uscita io mi ero posto questa domanda a proposito di isomorfismo no che trattandosi di documenti di testi c'è sempre qualche perdita mi sbaglio? allora su questa domanda può rispondere sicuramente meglio di me Federico che si occupa di OCR di manospiti e questa è una formalizzazione teorica che è la base poi per sviluppare tutto un modello anche applicativo che tenga conto della separabilità per far sì che il minor numero di informazioni vada persa ogni applicazione ogni operazione che si fa a Maria Rita su un file fa perdere informazioni se tu ti fai una copia di un file tu in realtà e poi distruggi il file originale non è che dalla copia che è isomorfa al file originale tu poi puoi andare a vedere dove stava il file originale se non ce l'hai più quindi ogni operazione porta per sé una diciamo una perdita di informazioni ma nel lavoro che sto studiando con i colleghi del coffee lab è proprio è proprio nella gestione dell'interazione di un'operazione quindi di un agente con un documento quindi nel capire come queste informazioni vengono guadagnate mantenute o perse che poi sta la bellezza di questa teoria questo serve solo per gettare sono i mattoncini lego questi sono i mattoncini lego è il duplo addirittura quindi quello che usavamo quando eravamo piccoli no? quelli per non metterci in bocca quindi erano i mattoncini dieci per dieci per dieci quelli questa è proprio esattamente la base e perché è complicata? e perché è complicata? perché è una sorta di assiomatizzazione per cui vi chiediamo di darci un po' di fiducia e di vedere tra qualche mese barra anno dove sarebbe meraviglioso poter studiare almeno conoscere queste cose che voi fate ok? chiedo scusa credo Riccardo che uno degli aspetti molto importanti siano quelli legati alla standardizzazione no? perché appunto la possibilità di creare documenti isomorfi c'è ok? ma uno dei problemi maggiori è creare documenti isomorfi ristando all'interno degli standard certo non inventarsi non inventarsi Federico che intendi per standardizzazione? intendo appunto utilizzare dei formati che siano standard cioè che siano riconosciuti dalle comunità di standardizzazione quindi ad esempio l'Aiso eccetera no? ecco allora che in alcuni casi almeno quello che vedo io ok? ma mi interessa anche discuterne con voi credo che in alcuni casi se si vuole se si vuole mantenere l'isomorfismo tra un documento non standard quindi con un formato proprietario e un documento standard quindi con un formato che sia riconosciuto da una comunità di standardizzazione certificato eccetera appunto in alcuni casi si può ricorrere per così dire a una sorta di tricks no? ad esempio una parte dell'informazione può finire nella parte non processata del che il formato ti concede ad esempio i commenti no? ecco allora che all'interno dei commenti stessi si può creare un intero microformato ok? che permette l'isomorfismo o appunto i microformati che andavano molto di moda una decina d'anni fa e ora un po' meno ma sono comunque molto usati no? per cui ad esempio all'interno dell'HTML per esempio all'interno dei titoli ci si possono mettere tutte le informazioni con una struttura secondaria ok? che può essere ad esempio quella delle coordinate del documento CR dal quale sono state estratte le informazioni riguardanti la mappatura sulla pagina d'accordo ecco diciamo che da un punto di vista applicativo quello che si fa sugli standard è quello di fare una specie di trilinguismo ti ricordi Federico il lavoro che abbiamo fatto sull'Anset Greek Word in cui abbiamo messo tre lingue noi abbiamo mappato due verso la pivot diciamo quello che viene fatto all'interno di queste mappature tra standard e non standard è quello di prendere un formato standard di riferimento mappare due formati non standard verso il formato standard ed inferire ed inferire i collegamenti tra i due non standard attraverso questo gioco e poi vorrà approfittare se c'è qualche matematico curioso questo diciamo sono è proprio un esercizio tipico di teoria delle categorie di monoidi c'è un mondo dietro che probabilmente non era stato neanche capibile ma se non si capito ma se non si va verso la reversibilità non si potrà mai 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 fare un passavanti perché in filologia ma anche a questo punto in linguistica se non si tiene traccia del passato come dicevano chi controlla il passato controlla il futuro quindi controlla il formato precedente o il documento precedente controlla il documento attuale quindi assolutamente ti ringrazio veramente moltissimo e questi accorgimenti ci portano anche a pensare ad esempio a formati che sono stati concepiti per scopi ben precisi come ad esempio la visualizzazione quindi pensiamo ad esempio al pdf ok che molto spesso perde tutta l'informazione del formato da cui proviene quindi ad esempio un doc che viene trasformato in un pdf oppure un documento latex che viene trasformato in pdf quando prendendo degli accorgimenti opportuni potrebbe benissimo integrarli al suo interno perché i meccanismi i meccanismi per avere un pdf che contenga al suo interno anche il proprio sorgente ci sarebbero e ci sono allora servirebbero DSL per farlo per questo che abbiamo detto i DSL sono sono più avanti perché con i DSL a seconda della grammatica scelta si possono veramente mettere un sacco di informazioni dentro assolutamente assolutamente adesso purtroppo è tardissimo quindi è chiaro io resterei qui anche fino a mezzanotte ma non non è una minaccia ok lascio immediatamente la parola ad Angelo grazie ancora vi devo saluta che c'è un consiglio di classe grazie Francesco grazie stai registrando vero? no perché Angelo poi me lo voglio sentire certamente ciao a tutti ciao Francesco ciao grazie ciao ciao Francesco ciao ciao ragazzi buonasera a tutti intanto vi ringrazio e siccome siamo un po' in famiglia vi direi se volete ordinatevi una pizza insomma così così cerchiamo di affrontare di affrontare anche quest'ultima parte in realtà l'epilogo no di questi di questa lunga serie di seminari organizzati organizzata da Federico da Taddei e dal da lì dagli LC e dal dal centro VDPH io un po' esatto perché io ho preparato una presentazione legata un po' ad un argomento forse come dire un po' diverso degli argomenti trattati finora nei seminari di Oporia 2021 però in qualche modo secondo me utile per iniziare anche qui a ragionare su una possibilità offerta non tanto dal mondo matematico come ha fatto ora Riccardo e Francesco ma un po' dal versante più della come dire dell'ingegneria del software delle cose un po' più pratiche cercando di collegare gli aspetti metodologici che sono stati sviluppati all'interno dei progetti Oporia e tentare una sistematicità su questi su questi approcci su questi metodi e allora mi son chiesto e intanto vi condivido lo schermo intanto vi condivido lo schermo vedete mi auguro di sì mi son chiesto se è possibile in qualche modo trovare una un approccio una filosofia per realizzare sistemi applicativi nel mondo diciamo della realizzazione del software e unirli un po' alla metodologia cercata da da Oporia e che è stata appunto discursa in questi seminari e che coinvolge tutto l'ambito dello studio scientifico del testo ecco come possiamo in qualche modo unire gli aspetti più ingegneristici diciamo così di analisi progettazione e sviluppo software al dominio della filologia digitale e computazionale ecco a questa domanda io ovviamente non ho una risposta ma sto iniziando un percorso di studio e ovviamente di sperimentazione per capire se ci sono delle dei principi delle strategie una filosofia da poter applicare al nostro contesto il contesto e lo studio scientifico del testo in ambito digitale ed ecco che appunto sto approfondendo una un metodo una filosofia di analisi progettazione e sviluppo software che è quella che va sotto il nome di domain driven design ok quindi oggi più che dare delle risposte cercherò di individuare un percorso e di allineare poi i principi del domain driven design a le esigenze che abbiamo noi all'interno della comunità del digital scholarly editing dello studio scientifico del testo in una in un ambiente digitale insomma la la particolarità di questo di questo paradigma ci può in qualche modo favorire e ovviamente una sperimentazione ancora un percorso però dal mio punto di vista riusciamo a trovare molti punti di contatto e poter sperimentare ok visto la nostra come dire natura anche di ricerca e la nostra natura appunto ibrida tra un dominio molto in qualche modo preciso no dominio che va oltre l'aspetto digitale ha anche un'ampio un'ampia ricaduta anche dal punto di vista della diciamo degli studi tradizionali ecco come riusciamo allora a trasferire trasformare e in qualche modo anche dare valore si è aggiunto agli studi tradizionali sfruttando appunto le nostre ricerche e i nostri strumenti finora ci sono stati appunto tanti anni in cui si è si è tentato di sviluppare strumenti adatti allo studio scientifico del testo però in qualche modo ancora si si percepisce una una sorta di come dire la cuna mancanza di tool effettivamente condivisi ok non ci sono né strumenti né modelli né interfacce né servizi effettivamente condivisi che siano condivisi tra varie comunità che ruotano attorno allo studio scientifico del testo sia digitale sia tradizionale la comunità appunto di chi non proviene da un percorso digitale le comunità il dominio che effettivamente si sta avvicinando al formato digitale e al mondo digitale al metodo digitale come noi che lavoriamo all'interno delle digital humanities ma anche come dire avvicinare chi ha un background ha un percorso completamente tecnologico no dagli informatici gli ingegneri informatici sono tre domini differenti che in qualche modo difficilmente si riconoscono quindi questa 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 mancanza di riconoscimento reciproco ovviamente ha dei limiti porta a non avere effettivamente degli strumenti condivisi appunto la la impossibilità attuale di avere un modello condiviso effettivamente è un problema anche appunto per l'utilizzo di strumenti sviluppati nel nostro contesto da parte degli studiosi tradizionali allora l'idea che c'è alla base anche del metodo di euporia sviluppata all'interno del coffee lab e come dire portata davanti in modo così diciamo importante da Federico da Federico Boschetti è quella appunto di coinvolgere il più possibile gli esperti di dominio gli studiosi all'interno del processo sia di sviluppo di tutte le pratiche tecnologiche digitali ma anche appunto quello di permettere l'uso effettivo concreto reale di questi strumenti all'interno dei processi e delle pratiche tradizionali ok quindi questo è un po' l'obiettivo che si cerca di raggiungere con il metodo euporia ed è attraverso diciamo lo studio e l'analisi di quali principi dell'ingegneria del software potrebbero aiutarci o meglio di metodi di strategie che sono state sviluppate nel corso del tempo all'interno appunto di processi di analisi di progettazione e sviluppo software che possiamo in qualche modo adottare per agevolare questa volontà questo obiettivo quindi alla base c'è la necessità in qualche modo di descrivere e di distillare quali sono effettivamente le necessità del dominio di riferimento nel nostro caso la necessità gli studiosi del testo ok gli studiosi del testo in qualche modo ci offrono dei requisiti e questi requisiti li dobbiamo catturare e catturare in modo formale utilizzando casomai le metodologie che ci ha fatto vedere anche Riccardo precedentemente e Francesco quindi formalizzazioni matematiche e questo ovviamente porta a serie di vantaggi dal punto di vista teorico ma anche dal punto di vista poi implementativo perché ovviamente la formalizzazione dei modelli ci permette di poter implementare quei modelli all'interno di applicazioni software ok queste applicazioni software appunto devono essere devono catturare le necessità del dominio in entità di base funzionalità di base e routine procedure operazioni di base così come appunto descriveva precedentemente anche Riccardo ecco che a questi requisiti o meglio a questi obiettivi diciamo ricercando tra le varie filosofie che si sono rincorse nel corso degli ultimi 10-15 anni per per la progettazione e lo sviluppo di di applicazioni software e ce n'è una che secondo me è particolarmente adatta ad essere sperimentata ok ed è il domain driven design come vi dicevo precedentemente allora in questa mia piccola non tanto piccola mi auguro di essere molto veloce la presentazione cercherò di cogliere quali aspetti appunto del domain driven design possono essere utili e sperimentati per progettare ma anche sviluppare proprio implementare proprio strumenti servizi applicazioni per il dominio del testo a scolastic quindi per chi studia scientificamente il testo chi studia scientificamente il testo non solo nella sfera digitale ok chi studia il testo includendo anche gli studiosi diciamo chiamiamoli impropriamente tradizionali classici tradizionali insomma che che non hanno non hanno competenze nella nella sfera digitale ok quindi l'obiettivo è appunto quello di introdurre fare una panoramica per certi versi appunto solo scalfendo la superficie come direbbero gli inglesi di questo di questo approccio di questa filosofia e cercando un po' di metterla in parallelo con le esperienze fatte ed eventualmente come cogliere sperimentazioni future utilizzando adottando proprio questa questa questo approccio questo paradigma come vi dicevo precedentemente secondo me diciamo parto da un'ipotesi di base no che il metodo euporia che è stato in qualche modo anche implicitamente raccontato nel corso dei seminari di questa serie euporia 2021 in qualche modo ricadono tutti in un processo che può essere che può essere implementato e che può andare sotto le strategie e i principi in qualche modo definiti all'interno dell'approccio del domain driven design anche perché diciamo euporia mira tende a sviluppare questa sorta di separazione tra le varie componenti dei vari progetti che in cui euporia è adottata ok quindi il metodo euporia è in grado di sviluppare una serie di approcci differenziati una serie di componenti software che si differenziano a secondo delle esigenze puntuali di ciascun progetto e questa è una cosa importante perché anche il domain driven design ha lo stesso spirito è lo spirito di ritagliare le esigenze sul problema specifico del dominio ok e questo problema specifico del dominio ovviamente produce dei modelli questi modelli vengono implementati ma sono differenti da ogni caso specifico e possono ovviamente evolvere sempre non c'è una naturale fine ok di di questa pratica di modellazione no e questi due questi due principi mi portano appunto a pensare o meglio a individuare un'ipotesi di lavoro che è quella appunto di associare il metodo euporia con gli approcci indicati individuati dal domain driven design e cercherò in qualche modo di spiegare un po' di introdurre sia quali sono i principi fondamentali del domain driven design e associarli appunto o collegarli alle alle prassi alle pratiche che noi quotidianamente o meglio io nel mio lavoro e all'interno del metodo euporia sono state già sperimentate alcune volte anche diciamo inconsciamente legate ai principi del domain driven design come per esempio appunto un principio di inclusività dove il domain driven design è fondato su l'inclusività degli esperti di chi ovviamente lavora quotidianamente nel dominio di interesse e e chi poi sviluppa e progetta la parte più tecnologica ok è lo stesso approccio di euporia di avere come obiettivo quello di soddisfare i requisiti di ricerca di chi sfrutta uno strumento software e non solo lasciare o limitare ad un'interfaccia casomai o solo iniziale o solo finale la parte di comunicazione con il dominio e con gli esperti di dominio ok quindi l'inclusività del metodo euporia è ovviamente rispecchiata anche nel metodo nell'approccio del domain driven design ecco appunto che il metodo euporia e il domain driven design focalizzano l'attenzione su ciò che è importante per il dominio e non su cose che possono come dire essere specchietti per l'allodola no? per l'allodola come si vede in questa slide la cosa importante è focalizzarsi sul dominio su che cosa è importante per il dominio di interesse e lasciare tutto il resto in un secondo piano ok quindi la cosa importante è capire a chi ci stiamo rivolgendo perché ci stiamo rivolgendo a quella comunità e quali sono veramente le esigenze di quella comunità cercando di raccogliere i requisiti e rispondere ai requisiti in maniera corretta includendo in un processo di appunto di sviluppo di progettazione di implementazione chi alla fine poi deve usufruire di quegli strumenti ok e non lasciarli solo come contorno al bordo intanto da dove proviene questa metodologia questa filosofia allora il domain driven design è una filosofia di sviluppo software appunto abbastanza abbastanza molto repentini è stata in qualche modo inventata da un da un ingegnere del software che si chiama Eric Evans nel 2003 diciamo ha scritto un libro estremamente importante imponente dal punto di vista anche del contenuto che è domain driven design tackling complexity in the earth of software ok questo è un po' il libro che ha dato origine a a questo modello a questo approccio a questo paradigma di sviluppo software ed è un paradigma incentrato appunto sul dominio ok quindi ciò che conta sono le esigenze del dominio e non le esigenze tecniche non le esigenze tecnologiche non come sviluppo qualcosa ma perché sviluppo qualcosa ok quindi è questo un po' il la base diciamo il principio di base di questa di questa filosofia io però anche nelle slide che ho preparato mi sono rifatto molto ad un altro libro non al libro di Eric Evans ma al libro di Scott Millett che appunto si intitola Patterns Principles and Practices of Domain Driven Design ok che è un altro libro molto corposo che appunto spiega i principi alla base del Domain Driven Design e cerca appunto di mettere molta attenzione sugli aspetti metodologici descrivendo poi una serie di strategie di tecniche di design pattern come vedremo anche per poi raggiungere l'implementazione delle cose che si che si descrivono dal punto di vista dei modelli software il Domain Driven Design appunto vi dicevo è un insieme di principi di tecniche di design pattern di best practice proprio di pratiche dove appunto il cuore il centro risiede nella collaborazione tra le persone ok e la collaborazione tra le persone non è semplicemente la collaborazione tra le persone di un unico con un unico background ok la collaborazione tra persone con diverso background e soprattutto con gli esperti di dominio ok quindi nel nostro caso la collaborazione con chi effettivamente studia il testo o chi effettivamente sa che cosa è un testo o chi effettivamente poi va a lavorare sul testo quindi per noi gli studiosi del testo ok quindi da un certo punto di vista il Domain Driven Design ci dà una serie di strumenti in grado appunto di raccogliere i requisiti e poi trasformarli in in strumenti nel nostro caso strumenti software basandosi appunto sulla collaborazione con gli esperti del dominio nel nostro caso appunto con gli studiosi del testo questa collaborazione ovviamente continua non solo parte di una fase ma è una collaborazione continua ci dà la possibilità di capire e di raccogliere di distillare fino in fondo il dominio di interesse per poi produrre dei modelli che ci permettono poi di realizzare dal punto di vista tecnico una implementazione adatta alle esigenze che abbiamo raccolto ok la cosa importante però è la l'aspetto collaborativo ok il team di ricerca il team di sviluppo e gli esperti di dominio quindi gli studiosi del testo lavorano assieme sempre non c'è una fase in cui c'è un'analisi dove si acquisiscono i requisiti poi dopo c'è la progettazione poi dopo c'è l'implementazione poi dopo se va bene qualcosa succede no non funziona così è tutto molto più integrato è molto è tutto molto più fluido dal punto di vista della collaborazione quindi anche vista la nostra particolare attenzione a ambienti multidisciplinari lavorando appunto in un gruppo di ricerca dove è naturale trovare persone esperte di dominio trovare persone esperte di sviluppo software persone esperte in progettazione oggetti è molto secondo me è molto utile poter sperimentare questi questi tipi di di approcci anche secondo me adatto proprio l'ambiente in cui lavoriamo sperimentare questi tipi di approcci come vi dicevo il domain driven design si fonda un po' sulla collaborazione tra persone con diverso background ovviamente per fondare la collaborazione tra le persone con diverso background c'è in qualche modo la necessità di capirsi molto spesso infatti i progetti ai quali anche io ho partecipato sono falliti falliscono perché le persone non si capiscono ok persone che provengono da un da un background filosofico per esempio non riescono a comunicare con persone che provengono da un background ingegneristico è questo scoglio è uno scoglio invalicabile molto spesso invalicabile che porta appunto anche il fallimento del progetto stesso quindi la collaborazione deve essere in qualche modo facilitata da un vocabolario comune questo vocabolario comune nel nel disegno del domain driven design è chiamato ubiquitous language dove appunto un vocabolario viene stabilito in modo molto naturale ma questo vocabolario deve essere ubiquo cioè nel senso bisogna utilizzarlo sempre ma sempre significa sempre come vedremo da dalle chiacchierate al caffè fino al codice ok quel linguaggio quel vocabolario deve essere in qualche modo il punto di riferimento la leva attorno al quale attorno alla quale tutto ruota ok è la leva per costruire questi strumenti ovviamente è la leva per capirsi no per evitare misunderstanding per evitare ambiguità per riuscire a cogliere effettivamente che cosa sono diciamo le necessità di base che vogliamo che vogliamo implementare o che vogliamo o che vogliamo in qualche modo tener presente ok un'altra cosa importante che ci permette di fare l'ubiquitous language quindi questo vocabolario condiviso lo vedremo anche un poco meglio è dare un contesto ai modelli software che realizziamo ora diciamo facendo un passo in avanti non esiste un unico modello ok quindi ogni volta che noi realizziamo un modello lo dobbiamo in qualche modo inserire un contesto questo contesto nella nella filosofia del domain driven design è chiamato bounding context ed è formato proprio descritto ed è realizzato sulla base del vocabolario condivido cioè se io nel modello non rivedo le definizioni e l'uso del linguaggio significa che in qualche modo quel modello è sbagliato o fa parte quel pezzo di modello di un altro contesto di un altro bounded context ok quindi il domain driven design si fonda sulla collaborazione di persone con diverso diverso background ma che realizzino in qualche modo un codice di comunicazione questo codice di comunicazione deve essere il più come dire il meno ambiguo possibile si chiama ubiquitous language quindi ecco qui un esempio ovviamente ripreso dal libro che vi dicevo prima in cui questo ubiquitous language quindi questo vocabolare questa questa sorta di sistema di comunicazione è al centro della realizzazione di tutti gli artefatti all'interno del domain driven design artefatti che possono essere artefatti diciamo astratti concettuali casomai descritti con strumenti robusti ben oleati come i diagrammi o ml ma anche un linguaggio che deve ritrovarsi all'interno del codice ok quindi linguaggio di dominio linguaggio di dominio presente nei diagrammi concettuali per capire diciamo il 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 dominio di interesse e in qualche modo iniziare a distillarlo e poi l'ubiquitous language quindi questo vocabolario condiviso presente anche all'interno del codice ubiquitous language presente sia nei modelli concettuali sia nel codice significa realizzare dei dsm perché nel codice abbiamo il linguaggio del dominio ok quindi riusciamo anche lì a proiettare in qualche modo la metodologia oporia all'interno di questo processo di sviluppo quindi diciamo un piccolo piccolo riassunto per dire che il domain driven design è proprio si focalizza la propria attenzione sulla collaborazione tra persone di diverso background ok background tecnico e background come dire meno tecnico esperti di dominio nel nostro caso gli esperti di dominio non sono tecnici ok gli esperti di dominio sono persone che hanno studiato altro persone che hanno fatto studi umanistici ok e in qualche modo i nostri gruppi sono gruppi multidisciplinari che già naturalmente condividono questa situazione dove ci sono esperti diciamo che hanno fatto studi tecnici e esperti che hanno fatto studi umanistici ok quindi è di per sé naturale incontrarsi in questo in questo contesto quindi appunto le persone in qualche modo devono stabilire un canale di comunicazione questo canale di comunicazione viene appunto chiamato ubiquitous language il più come dire il meno ambico possibile e questo vocabolario condiviso ci dà la possibilità appunto di sviluppare dei modelli dei modelli che possono essere poi sfruttati per implementare strumenti computazionali e proprio applicazioni software ok appunto dal punto di vista dei principi del domain driven design abbiamo una come dire la possibilità di sfruttare anche tecniche tradizionali anche del mondo dell'ingegneria del software per esempio si fa molto uso di i cosiddetti patterns vedremo dopo in qualche modo qualche esempio dove appunto delle soluzioni generiche vengono utilizzati per risolvere problemi ricorrenti allora all'interno della metodologia del paradigma dell'approccio della filosofia del domain driven design abbiamo la possibilità di sfruttare una serie di patterns che non sono solo patterns di design ma possono essere patterns anche di varia tipologia come vedremo e all'interno del domain driven design li chiamano specialmente strategic and tactical patterns allora qui è una prima parte di una serie di principi appunto e di strategie che vengono usate per sviluppare appunto applicazioni all'interno della metodologia del domain driven design la cosa su cui focalizzarsi principalmente è sulle cose un po' più a sinistra non ce la facciamo ad approfondire tutto l'ambito del domain driven design però in qualche modo cercheremo di valutare come approcciarci al domain driven design per risolvere i nostri problemi e allineare in qualche modo il domain driven design a quello che abbiamo visto e sentito nel corso delle nostre dei nostri seminari di Okuria 2021 quindi l'ubiquitous language è sempre diciamo l'entità il principio fondamentale il quale ci permette appunto di capire quali sono i contesti nel quale sviluppare i vari modelli modelli software applicativi vari modelli software applicativi che appunto sfruttano una serie di patterns questi patterns sono sia per costruire un modello di dominio sia per costruire i servizi e sia per in qualche modo includere le operazioni all'interno del modello di dominio ok quindi cerchiamo di tenere sempre uniti la rappresentazione dei dati con le operazioni che possono essere fatte su questi dati non sono due cose diverse ok sono delle cose che devono diciamo i dati e le operazioni che possono essere fatti su questi dati e i servizi le funzionalità devono essere sempre integrate tra di loro ma al tempo stesso avere un'evoluzione molto flessibile disaccoppiata ecco un esempio appunto di quello che viene generalmente mostrato come il pattern architetturale più usato all'interno del domain driven design che poi appunto ha fatto in modo di come dire di dare una nuova vita al domain driven design con le nuove tendenze dei microservices dei docker della programmazione reattiva perché appunto questo tipo di approccio è in grado di soddisfare tutti quegli altri elementi che sono più implementativi e che ci danno appunto la possibilità di essere come dire un po' al passo con i tempi anche dal punto di vista tecnologico come si vede appunto da questa slide abbiamo un modello di dominio che è molto isolato da tutto il resto ok in questo modo possiamo diciamo possiamo attuare una politica di sviluppo evolutivo molto molto spinta cioè il il modello del dominio non è un qualcosa di stabilito e fisso è una cosa che evolve molto e molto velocemente e questo lo possiamo fare se manteniamo un'architettura molto disaccoppiata ok un'architettura dove tutte le varie componenti sono molto isolate tra di loro e comunicano ovviamente attraverso delle interfacce ok quelle famose API che possono andare non solo a livello di servizio ok come possono essere le REST API ma ci sono anche altri livelli in cui le API giocano un ruolo fondamentale per esempio in questa slide appunto si vede nei vari i vari pallini uno due e tre questi cerchietti appunto sono implementati attraverso le cosiddette application API ok che fanno un po' da tramite da facade tra il mondo esterno i servizi e il modello che noi abbiamo sviluppato all'interno del documento e ovviamente come vi dicevo esiste una rappresentazione del dominio ma esistono anche le operazioni che possono essere fatte sul dominio ecco che in basso a sinistra vediamo un altro pattern che viene utilizzato appunto per descrivere anche le operazioni questo è chiamato command queries events appunto che determina che cosa possiamo fare sul dominio cambiandogli lo stato quindi sono i commands e cosa possiamo fare sul dominio richiedendo lo stato quindi queste sono le queries e come far comunicare eventualmente cambiamenti di stato del dominio verso gli altri come dire gli altri servizi o le altre componenti dell'architettura e questo viene fatto attraverso gli events ok dopo questa breve panoramica e intanto sono andato già molto lungo ok perché vi dicevo vi dicevo all'inizio perché può essere adatto il domain driven design al nostro dominio cioè al dominio di chi sviluppa strumenti applicazioni per lo studio scientifico del testo perché intanto il domain driven design non è adatto per tutto ok è adatto se ci sono delle condizioni di partenza ok se intanto il dominio chiamato anche all'interno della nomenclatura del domain driven design problem space è un problem space complesso ok è un problem space che ha una logica complessa ha una serie di come dire challenge difficili da risolvere ok e come dire mi pare che il nostro lo sia è in grado di modellare oggetti complessi multidimensionali se noi pensiamo a modellare diciamo il nostro oggetto principale che è il testo lo vedremo anche anche in qualche esempio dopo capiamo che ovviamente i nostri i nostri oggetti di riferimento i nostri oggetti di studio sono oggetti complessi multidimensionali ci deve essere ovviamente un dominio della conoscenza specifico quindi dobbiamo essere all'interno di un dominio specifico e avere la possibilità di includere all'interno del team di sviluppo all'interno di tutto il processo progettuale gli esperti di dominio e tendenzialmente i nostri contesti lo permettono specialmente i contesti di digital humanities permettono questa possibilità ci danno questa possibilità e avere appunto la necessità non solo di rappresentare i dati ma anche quella di associare i dati delle operazioni nel mondo del domain driven design appunto si parla di behavior and data ok riuscire a mettere assieme la rappresentazione del dato e con le operazioni che vogliamo fare su questi dati ok e appunto riuscire a implementare dei servizi indipendenti avere sempre la possibilità di raffinare i risultati che abbiamo ok quindi in qualche modo è un contesto che si sposa molto bene con gli ambienti di ricerca ok dove non si è mai arrivati c'è sempre un punto di arrivo che è il punto di inizio di qualche altra cosa allora tutte queste caratteristiche ci fanno mi fanno in qualche modo propendere per un utilizzo in qualche modo una sperimentazione di questi principi all'interno delle nostre attività la cosa che appunto è ci dà la possibilità che ci dà anche l'utilizzo del del domain driven design è quello appunto di avere dei modelli software e quindi degli strumenti software che evolvono in modo agile ok quindi la possibilità di costruire dei modelli delle applicazioni software all'interno del nostro dominio studio del testo che non siano ancorati a particolari modelli ma che siano in grado di evolvere e questi modelli in grado di evolvere devono in qualche modo essere riconosciuti e usati effettivamente dalla comunità di riferimento che non è solo la comunità di age ma deve essere in qualche modo dobbiamo sforzare le nostre come dire i nostri outcomes ad essere utilizzati anche nelle in contesti più tradizionali e questo è come dire uno sforzo che in qualche modo eucoria cerca di di portare avanti anche perché appunto come come è stato detto più di una volta le domande di ricerca non sono solo tecnologiche molto spesso non sono tecnologiche ok le domande di ricerca provengono dal dominio ok quindi dobbiamo in qualche modo far fronte alle domande di ricerca del nostro dominio di interesse che non è solo il dominio dello sviluppo del software o della progettazione del software o della delle competenze algoritmiche eccetera eccetera ma devono avere per forza di cose una ricaduta all'interno del dominio di interesse ecco questi principi sono sono principi alla base del domain driven design è un altro principio che ovviamente a noi che siamo un po' più tecnologici che abbiamo un background un po' più tecnico non è non è poi secondario a quello che vi dicevo prima cioè ad avere una ricaduta nel dominio di riferimento ma la possibilità di avere anche degli strumenti software che siano in qualche modo in grado di evolvere in modo efficace ed efficiente ok di avere appunto una code base quindi una 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 ora non mi viene in italiano comunque un un posto dove mettiamo il codice che sia organizzato e in qualche modo flessibile ok in grado di raccogliere effettivamente le esigenze e in qualche modo rispecchiare il dominio ok leggendo il software dobbiamo vederci il dominio di interesse cioè dobbiamo capire di in che modo noi affrontiamo i problemi del dominio di interesse deve essere palese quando leggiamo il software quando leggiamo le righe di codifica all'interno del dei nostri dei nostri strumenti software ok quindi in qualche modo basarci su quel famoso linguaggio condiviso che vi dicevo che vi dicevo precedentemente e prima vi dicevo il nostro il nostro dominio è complesso il dominio dello studio del test è complesso è complesso è multidimensionale è molto difficile da da gestire il nostro oggetto di riferimento ok i nostri oggetti di riferimento sono i documenti i test le risorse testuali gli oggetti che veicolano testo è un contesto molto difficile da gestire perché perché ci sono varie tipologie di testo varie tipologie di supporto varie tipologie di come dire di studi di scuole di teorie quindi è molto complicato riuscire a definire come trattare un testo e come trattare diciamo lo studio e le analisi al testo ok ci sono tante tipologie di testo tanti tanti generi con tanti sistemi di scrittura tanti tra virgolette anche modelli tradizionali dai quali attingere no e in più anche tutto il processo che lega lo studio del testo al mondo diciamo più di analisi computazionale digitale è complesso è fatto di tante fasi di tanti elementi che introducono anche molti errori hanno bisogno di un'infrastruttura solida e hanno bisogno ovviamente di tanti dati e di tanti metadati per poter essere elaborati quindi il nostro problem space il nostro dominio è un dominio complesso e come vi dicevo appunto ora come dire qualcosa che sapete sapete meglio di me abbiamo a che fare con un oggetto che è difficile definire ok tendenzialmente abbiamo a che fare con dei testi o con dei documenti testuali e come dire riuscire a caratterizzare questa entità è qualcosa di estremamente complicato ok qualcuno ci ha provato ovviamente Franz sa bene di cosa parlo e in che modo le prospettive un approccio pluralistico un approccio multidimensionale al testo ci permette in qualche modo già di orientarsi nelle varie componenti e nelle varie sfumature che che l'oggetto testo può può in qualche modo avanzare suscitare o rappresentare no quindi data tutta questa complessità come come iniziamo a risolvere il problema ecco dal punto di vista del domain driven design la cosa che ci si che ci si aspetta è principalmente focalizzarsi sulle cose che sono essenziali al dominio di interesse e non perdersi in mille cose che non c'entrano niente poi con il problema di base ora questo questo ragionamento all'interno del domain driven design viene chiamato distillazione di dei domini in sottodominio ok quindi all'interno di un di uno di uno problem space quindi di uno spazio di problemi del dominio di interesse della del nostro della nostra realtà del dominio nel nostro dominio anche come dire fuori dal contesto tecnologico dobbiamo in qualche modo fare ordine e capire che cosa è la parte essenziale tutto il resto che nel nel mondo del domain driven design si chiama sottodomini generici e di supporto e deve essere in qualche modo separato ok in qualche modo lasciato in secondo piano ecco allora che possiamo iniziare a individuare anche un approccio per poter in qualche modo elaborare dei modelli sugli oggetti complessi che abbiamo che abbiamo a disposizione per esempio il testo appunto può essere individuato come il nostro core business il nostro modello fondamentale allora riuscire a descrivere e a realizzare un modello del testo è un po' la nostra sfida il nostro challenge ma la nostra sfida come si rapporta con le varie componenti di questo testo che possono essere appunto viste come i vari sottodomini possono anche essere viste come le varie scuole le varie prospettive che abbiamo le varie domande di ricerca come possiamo affrontare questo problema in qualche modo il domain driven design ci può aiutare e ci aiuta appunto cercando di ci invita in qualche modo a fare ordine a cercare di individuare quali sono i vari modelli che vogliamo realizzare quindi non ce n'è uno non c'è un unico modello ma ci sono vari modelli e questi modelli hanno un senso solo in un contesto ok questo contesto è chiamato appunto bounded context quindi abbiamo la necessità di far chiarezza la necessità di individuare i nostri le nostre esigenze e alle nostre esigenze in qualche modo far rispondere uno o più modelli in un ambiente molto isolato ok in questo bounded context ma non è solo una questione di appunto organizzazione dei modelli in qualche modo dobbiamo anche affrontare che cosa ci facciamo su questi su questi modelli il nostro oggetto sì ma serve a cosa ok che cosa ci devo fare che cosa ci voglio fare ok a queste domande insomma bisogna iniziare a dare delle risposte eh cosa vogliamo fare navigare in archivi molto grossi dove ci sono tante immagini e che sono rappresentazioni facsimilari oppure voglio gestire una molteplicità di versioni di una stessa opera di uno stesso testo confrontare più lezioni più varianti o supportare l'attività editoriale con meccanismi diciamo di supporto anche come dire legando algoritmi molto 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 attuali gestendo tutti gli aspetti bibliografici la letteratura secondaria cogliendo la necessità di fare indici e concordanze su tutto non solo sulla risorsa principale come possiamo individuare operazioni per la trascrittura per trascrivere collaborativamente fare delle ricerche avanzate sui fenomeni testuali di vario tipo non solo fenomeni testuali diciamo legati ad aspetti ortografici generalmente sì ci sono motori di ricerca molto validi ma quasi tutti si limitano ad aspetti ortografici no non solo però insomma la cosa la cosa diciamo più 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 comune o comunque supportare nella creazione di apparati critici e nella pubblicazione di edizioni critiche e soprattutto l'abbiamo visto con con i DSL con euporia riuscire a gestire in modo efficace ed efficiente gli aspetti di annotazione di commento non solo diciamo limitato a il documento originale e un documento diciamo un'annotazione che è un'annotazione diciamo isolata ok quindi riuscire a gestire annotazioni in modo ricorsivo in modo tale che le annotazioni diventano in in modo ricorsivo oggetti di annotazione e riuscire a gestire tutte diciamo quella parte di annotazioni e commento relativi al testo principale ma anche a tutto a tutto il resto che ruota attorno al testo principale e così via quindi ci rendiamo conto che il nostro dominio è molto complesso ok quindi come la affrontiamo cercando appunto di individuare delle strategie e queste strategie ci possono anche essere suggerite da diciamo dei processi di sviluppo diciamo che sono già presenti no? almeno sperimentarli se vanno bene ok quindi abbiamo la necessità di distillare un dominio che è molto complesso e questa 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 selezione no? degli elementi caratterizzanti del dominio ci danno la possibilità poi di costruire delle astrazioni e queste astrazioni poi possono realizzarsi in modelli software che rispecchiano appunto diciamo le caratteristiche selezionate del dominio ok quindi appunto ogni ogni elemento del dominio deve essere poi rimappato su quello che è considerata una soluzione ai problemi che abbiamo precedentemente analizzato all'interno del problem space ok quindi analizziamo il dominio di interesse e poi in qualche modo lo dobbiamo riportare all'interno di una sfera che è la sfera delle soluzioni ok in uno spazio delle soluzioni e questo come lo facciamo cerchiamo di utilizzare paradigmi vecchi oppure mettiamo assieme ciò che è buono del vecchio con ciò che è buono del nuovo e sperimentiamo anche diciamo un'ibritazione cioè riuscire ad avere dei modelli concettuali casomai sfruttando quello che veniva fatto diciamo in passato con i diagrammi UML ma questi diagrammi UML devono essere sincronizzati a delle attività molto agile quindi ha delle attività dove è possibile in modo iterativo molto frequente di in qualche modo migliorare il sia il modello e sia il codice che viene implementato a partire da quel modello ok quindi avere dei refinement successivi una evoluzione del software ma anche un'evoluzione del modello software e modello codice e modello devono essere sempre sincronizzati ma questa sincronizzazione chi la deve fare la deve fare il gruppo di lavoro che non è solo tecnico ok il gruppo di lavoro è fatto da tecnici e ripeto esperti di dominio che devono rivedersi all'interno dei modelli ma anche rivedersi all'interno del codice ok all'interno proprio di ciò che viene implementato e questo lo possiamo fare sfruttando una serie di come dire di prassi una serie anche di strumenti come per esempio le use stories e i use case di oml ok sulla base di questi strumenti possiamo iniziare a identificare le entità di base e le operazioni di base che poi confluiranno all'interno del modello e del codice i modelli appunto devono in qualche modo rispecchiare il dominio quindi modelli concettuali devono rispecchiare il dominio ma possono essere anche inizialmente molto naif non devono essere perfetti subito devono essere una base di confronto ok quindi per esempio sfruttando oml è possibile confrontarsi su dei modelli ok e ovviamente iniziare ad implementarli ok questo è un esempio di diagramma oml delle classi a livello concettuale dove appunto sono presentati alcuni elementi concettuali e come sono in relazione tra di loro ovviamente noi abbiamo a disposizione già dei modelli del testo ok dobbiamo confrontarci anche con ciò che c'è già noi sappiamo che un testo può essere modellato in vari modi abbiamo più modelli e tutti validi abbiamo un modello lineare che generalmente viene utilizzato dalla linguistica computazionale modelli gerarchici che generalmente viene utilizzato da chi fa digital scholarly editing con il modello di riferimento diciamo classico ormai che è stato più volte ovviamente anche lì raffinato e modello a grafo che sembrerebbe il modello di nuova generazione quello che mette in relazione reticolare tutti tutti gli elementi individuabili all'interno del testo allora come vi dicevo i modelli possono essere inizialmente molto naif e poi man mano raffinati raffinati anche utilizzando i classici design pattern qui a sinistra appunto c'è un modello molto naif di quello che è la rappresentazione di un apparato critico in TEI ok rimappato a oggetti ok e a destra invece c'è lo stesso identico modello tra virgolette quindi esprime la stessa cosa ma il modello è un attimino più curato dal punto di vista del design quindi abbiamo un modello ad albero sia a sinistra che a destra a destra è un modello ad albero sfruttando un design pattern che ci dà la possibilità appunto di evolvere più facilmente di accogliere in modo più flessibile diciamo nuovi requisiti ok dopodiché possiamo ancora diciamo raffinare di più i nostri modelli e per esempio accogliere tutte e tre i modelli di base che avevamo individuato prima ok quindi possiamo all'interno dello stesso modello in qualche modo rappresentare sia il modello lineare sia il modello gerarchico sia il modello a grafico ok quindi modello lineare dove appunto si esprime la come dire la linearità quindi solo una come dire solo una relazione d'ordine tra le componenti che abbiamo ok possiamo avere un modello qui al centro della slide gerarchico dove appunto non solo riusciamo a cogliere la relazione d'ordine tra le componenti ma anche una gerarchia tra le componenti e poi in alto riuscire anche ad avere un modello in grado di mettere assieme più elementi di diversi diciamo che fanno che che sono all'interno di livelli gerarchici diversi ok questa sorta di raffinamento continuo è appunto è presente è stimolata all'interno del domain driven design quello che è anche stimolato e che generalmente poi viene trascurato da chi fa modelli è l'implementazione ok perché poi alla fine diciamo i modelli non sono fatti per restare modelli ma sono fatti per creare degli oggetti software generalmente ed essere poi usati concretamente in progetti di ricerca di dominio non progetti di ricerca diciamo fuori dal dominio di interesse ok quindi c'è una la necessità di fare fast prototyping in modo tale da cogliere anche i limiti dei modelli che abbiamo sviluppato che abbiamo pensato è perché se si fallisce subito se si fallisce presto si ha anche la possibilità di recuperare presto diciamo dalla strada sbagliata intrapresa ok quindi non solo modelli ok che tante volte come dire danno danno fatica agli esperti di dominio perché hanno la volontà anche di avere un feedback un poco più concreto ma fare anche fast prototyping cioè sviluppare poi subito nel codice il modello realizzato anche sbagliato il modello non è importante ok quindi appunto la possibilità di unire gli aspetti diciamo di dominio con gli aspetti di sviluppo di progettazione software attraverso questo linguaggio condiviso che vi dicevo poc'anzi vi dicevo appunto che attraverso il linguaggio con un vocabolario condiviso appunto dal punto di vista del domain driven design è l'ubiquitous language abbiamo la possibilità di capire il significato di un modello ok quindi capire il significato di un modello significa metterlo all'interno di un contesto questo contesto è chiamato bounded context quindi appunto in questa slide si ripercorre un po' l'importanza di avere un vocabolario condiviso ma vado avanti tanto un po' ve l'ho già detto la cosa che mi preme qui ripetervi è che la possibilità di costruire un linguaggio condiviso c'è data anche dalla scrittura delle cosiddette user stories all'interno della scrittura di user stories possiamo in qualche modo avere già l'indicazione di che cosa diciamo andrà a finire all'interno di questo vocabolario condiviso perché abbiamo la possibilità poi di valutare una serie di termini che possono diventare termini del vocabolario all'interno del contesto in cui poi un modello andrà ad essere sviluppato ok questo è un esempio di user stories che abbiamo scritto nel progetto Clavius on the web il quale appunto identificava come dire una serie di termini e una serie di entità che poi sono state implementate nel modello e nel codice ok quindi le user stories non solo servono per raccogliere i requisiti non solo servono per creare un modello astratto concettuale ma servono poi anche per sviluppare il codice e il codice deve essere allineato alle user stories cioè dobbiamo identificare esattamente il requisito e i termini utilizzati nelle user stories e nel modello anche all'interno del codice tutto deve essere allineato a questo vocabolario condiviso mettiamolo così all'interno di un contesto non deve essere tutto il sistema allineato con un unico grosso vocabolario no c'è un contesto di riferimento che può essere molto piccolo con un modello che può essere molto piccolo che però inserito in una in un sistema diciamo integrato può diventare un come dire una un iper modello come dire un metamodello fatto di tanti modelli di base che colgono però effettivamente i requisiti della diciamo del poi appunto come vi dicevo il il domain driven design ci dà degli strumenti anche molto pratici per poter risolvere dei problemi ovviamente all'interno dell'ingegneria del software o di chi poi sviluppa software negli ultimi venti anni ora diciamo è poco poco calata l'attenzione ma secondo me ritornerà ai cosiddetti patterns sono proprio delle soluzioni generiche generali e riusabili a problemi ricorrenti in un in un contesto specifico e ci sono tante tipologie di patterns quelli che che noi generalmente indichiamo con design patterns sono una parte che sono ventitré su centinaia e centinaia di patterns che sono stati descritti partono in realtà da concetti che non sono concetti di ingegneria del software sono concetti di ingegneria diciamo civile da un famoso lavoro e da questo lavoro si è appunto poi trasferita una metodologia di lavoro anche nell'ingegneria di software e di chi sviluppa software e allora abbiamo tante tipologie di patterns di analisi architetturali di design di integrazione e strategici e tattici che sono quelli che poi generalmente si utilizzano e sono proposti dal domain driven design e vi faccio vedere qualche esempio appunto anche come dire sollecitato dal domain driven design come appunto la layerizzazione degli strati ok quindi il livello di dominio è come dire in qualche modo isolato da tutto il resto e questo isolamento viene fatto grazie allo sviluppo di strati intermedi che sono degli strati che aggiungono punti di articolazione e di separazione all'interno dell'architettura software ecco questo ci dà la possibilità appunto di gestire bene l'evoluzione e il disaccoppiamento dell'architettura software come vedete appunto anche lo storage il livello di persistenza è separato da tutto il resto appunto questo pattern è in qualche modo associato ad un pattern che è descritto appunto e si chiama service layer tutti i pattern sono descritti uno dei pattern più famosi che è un pattern architetturale non fa parte dei pattern di base dei famosi design pattern è l'MVC ok questo è un famoso ricorrente pattern utilizzato nella stragrande maggioranza dei framework oggi più usati per l'implementazione di applicazioni web quello che invece è più importante dal nostro punto di vista è un pattern che si chiama domain model il pattern domain model è importante dal nostro punto di vista perché unisce la rappresentazione dei dati con le operazioni quello che si chiama appunto behavior all'interno di questo pattern in grado appunto di associare in modo molto efficace e flessibile un'entità con le operazioni che possono essere fatte su questa entità all'interno all'interno del domain driven design ci vengono proposte alcune soluzioni anche diciamo di pattern tra cui la possibilità di descrivere il modello di dominio con tre componenti di base che si chiamano aggregati entità e value object e associare al modello di base le operazioni che come vi dicevo prima sono chiamati commands non entro nei particolari tecnici di queste cose perché è giusto per cogliere anche questo aspetto del domain driven design come vi dicevo appunto possiamo implementare dei modelli inizialmente anche diciamo molto naif molto diretti ok e poi rifinirli con i design pattern come vi dicevo prima e i design pattern ci permettono di come dire di trovare soluzioni molto flessibili a problemi anche abbastanza complessi per esempio questo 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 diagramma OML diciamo definisce una una soluzione legata ad un visitor design pattern si chiama visitor ad un design ad un altro design pattern che si chiama composite component che è quello un po' che sfrutta i DSL per poter produrre poi la conversione dal codice del linguaggio DSL al codice in XML ok in grado di appunto navigare un albero e a seconda della posizione del nodo navigato produrre un output specifico ok questo è diciamo realizzato attraverso questo design pattern un altro design pattern che è possibile sfruttare all'interno del nostro dominio è l'observer ok pensiamo appunto a come può cambiare un testo di riferimento un documento di riferimento e se cambia il testo di riferimento e a questo testo di riferimento abbiamo associato un'annotazione o un commento in qualche modo dobbiamo verificare o notificare che è avvenuto un cambiamento allora questo questo meccanismo può essere implementato efficacemente con il design pattern observe questi design pattern che vi ho fatto vedere con tutta questa politica di raffinamento dei modelli li abbiamo in qualche modo implementati e sperimentati nel progetto Clavius on the web e abbiamo anche appunto poi sviluppato un prototipo che è in grado appunto di cogliere la rappresentazione del testo di cogliere le annotazioni al testo di cogliere il modello del testo lineare il modello del testo a grafico ok ovviamente è stato un prototipo ma che ha dato ci ha fatto capire un po' insomma che è possibile sviluppare in qualche modo un'idea seguendo le indicazioni che vi ho mostrato precedentemente ritorniamo un attimino al modello del testo che avevamo ipotizzato all'inizio della presentazione ora cercherò di andare il più veloce possibile noi avevamo individuato il modello del dominio per il testo a scholarship un oggetto e questo oggetto poteva appunto prendere il nome di testo ok avevamo visto che il testo può essere in qualche modo stirato da vari punti di vista e ogni porzione diciamo di testo è in qualche modo significativa per uno di questi di queste prospettive o meglio è più significativa e maggiormente significativa per ciascuna di queste di questi punti di vista e siamo sicuri che questa è la soluzione migliore oppure effettivamente il testo non è un unico modello strecciato tirato da 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 tutte le varie prospettive sarebbe anche il caso di individuare in un unico nome tra virgolette ok più modelli e questo ce lo permette il domain driven design perché come vi dicevo all'inizio quello che è significativo è il bounded context quindi ogni bounded context può avere un modello diverso e la 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 semantica di quel modello è dato dal bounded context quindi possiamo avere tanti diciamo modelli del testo ogni modello del testo però è significativo all'interno di un particolare bounded context allora questo ci permette di essere molto flessibili di poter evolvere molto velocemente di raffinare i modelli già creati ma di aggiungerne altri senza problemi ok perché ogni oggetto testo ogni concetto del testo è significativo solo all'interno di un bounded context o meglio è caratterizzato all'interno di un bounded context e questo in qualche modo ci permette di essere molto flessibili in qualche modo è un po' il concetto che utilizza anche Cadmus avere più modelli di testo sulla base delle domande di ricerca appunto io ho un modello che è differente dagli altri ecco ecco perché dico che in qualche modo il domain driven design è in qualche modo già applicato da noi ok perché tutte le varie tutti i vari principi le considerazioni che vengono elencate all'interno di questo paradigma in qualche modo sono cose che già sono attuate o attuati semplicemente in modo naturale ok ecco perché è possibile diciamo essere più flessibili di quello che generalmente si fa o mai con una soluzione architetturale non non molto robusta perché molto spesso possiamo anche individuare in un unico modello del testo e applicare differenti funzionalità molto separate ok per esempio noi abbiamo appunto per esempio un unico database e arriviamo ad analizzare le informazioni presenti in un unico database con API diverse ok un API definisce le analisi linguistiche un altro API definisce la volontà di allineare versioni diverse eccetera eccetera ma diciamo l'oggetto il modello resta lo stesso e invece no possiamo anche qui addirittura diciamo separare tutti tutte le funzionalità tutte le operazioni che possono essere associate ad un modello e separare sia la parte diciamo operativa che la parte di rappresentazione ma anche la parte di storage ok quindi avvicinarsi in quello che appunto oggi è il modello a microservizi ok dove microservizi accompagnati anche dai docker no perché perché ogni ogni sottodominio è in qualche modo isolato è isolabile ovviamente va bene tutto isolare ma in qualche modo qualche porta da qualche parte la dobbiamo lasciare aperta sia perché ci sono dei client che devono comunicare col dominio o meglio devono chiedere di operare sul dominio ma anche perché domini diversi ovviamente o meglio sottodomini diversi in qualche modo devono poter comunicare qui vi presento in questa slide appunto un un altro ulteriore nostro esempio che abbiamo fatto all'interno di un progetto che si chiama Omega dove appunto il dominio fatto semplificato delle tre classi che vedete a sinistra appunto con tre classi e queste tre classi sono astratte appunto da un layer applicativo che è il layer testuale e il layer testuale e il client quindi chi usa il layer applicativo non ha contezza di quello di come è stato definito il il modello del dominio ok quindi evolvono in modo in modo separato ok un client che vuole sfruttare un dominio lo può fare senza entrare appunto all'interno si dice in inglese proprio negli internals proprio in come è fatto poi il modello del dominio e quindi vi dicevo che in realtà poi tutti questi sottodomini e questi bounded context non sono bounded ma hanno delle porte ok queste porte ovviamente possono essere sfruttate per comunicare bisogna stare attenti perché possono essere sfruttate anche poi per diciamo corrompere il codice quindi ci sono che qui non entreremo nei dettagli ma ci sono delle strategie per ottimizzare le comunicazioni o le integrazioni con i vari con i vari bounded context ultima parte ultimissima se c'è tempo altrimenti non non fa niente Federico dimmi te perché qua stiamo orario pizza allora se riesci in 5 minuti a concludere direi di sì ok ok vabbè mi ammazzeranno lì a Venezia però vabbè chiedo chiedo scusa anche a Pisa si ammazzano anche a Pisa e a Pisa la minaccia è molto più a parte che Fede poi fai post processing di questa cosa scusami scusami guaffa veramente andiamo verso le conclusioni molto molto interessanti no no dicevo che comunque sia questo isolamento del dominio del livello del dominio del livello applicativo del livello dei servizi è ovviamente molto incoraggiato dalla politica del domain driven design e in qualche modo viene anche mostrato e spiegato un pattern che è il pattern appunto hexagonal pattern che è un'architettura hexagonale che ha un po' questa 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 visione cellulare citologica ecco dove il nucleo è il dominio e poi attorno al nucleo si costruisce tutto il resto ecco quindi c'è in verde in questo caso è l'infrastruttura in bianco prima del dominio ci sono i servizi applicativi e poi internamente ci sono c'è il layer del dominio e quindi il modello di dominio ovviamente appunto c'è la possibilità da parte dell'esterno di comunicare con con l'interno quindi con il dominio solo attraverso appunto lpi che vengono rese disponibili sia nello strato superficiale ok quindi è ciò che viene mostrato al mondo esterno e il mondo esterno può comunicare con il dominio solo attraverso i servizi applicativi quindi ci sono vari livelli di articolazione per poter isolare bene e questo perché è possibile poi evolvere in modo molto efficiente questo è un caso d'uso ecco queste queste ultime due slide voglio voglio appunto sottolineare il fatto che i bounded context non sono isolati dal mondo tutur ok i bounded context sono in qualche modo dei contesti dove il modello del dominio ha una semantica particolare ok quella semantica è custodita in modo come dire molto molto efficace appunto perché si costruisce attorno a questo modello del dominio una serie di articolazioni per evitare di corromperlo di corrompere il modello e come comunicano c'è la possibilità di comunicare con tutte le strategie messe a disposizione da anche dai come dire dalle architetture più moderne per esempio attraverso i web services o attraverso le infrastrutture di messaging attraverso dei bus che fanno passare dei messaggi e reagiscono a dei cambiamenti ok può essere una comunicazione diretta cioè i vari i vari sottodomini e i vari context bounded context comunicano tra di loro in modo diretto cioè i web services di uno con i web services dell'altro oppure l'infrastruttura di messaging dell'uno con le infrastrutture di messaging dell'altro oppure per delega quindi delegare a un ulteriore altro componente che diciamo è un componente stateless cioè solo procedurale fa solo dispatching fa solo orchestrazione delle varie delle varie richieste di comunicazione tra i vari bounded context e quello che appunto noi stiamo cercando di realizzare è questa visione d'insieme quindi una visione d'insieme che mantiene un core molto separato diciamo isolato da tutto il resto e sul quale vengono creati gestiti implementati una serie di livelli per garantire una evoluzione flessibile di ciò che è implementato nel core da ciò che è implementato diciamo nei livelli successivi e soprattutto di ciò che è esposto verso l'esterno e mi avvio alle conclusioni quindi ricordiamoci che in particolare il domain driven design ci permette di unire le competenze del dominio analizzando il problem space con una serie di principi tattiche strategie per distillare il dominio di interesse questa possibilità poi viene definita all'interno di un linguaggio che è un linguaggio condiviso un vocabolario condiviso che è in grado di definire bounded context all'interno dei bounded context poi possiamo implementare tutto lo spazio delle soluzioni possibili e avere dei modelli molto flessibili in grado di evolvere molto rapidamente senza corrompere chi li usa perché ci sono appunto queste diciamo layer questi punti di articolazione che ci permettono di tenere separato tutto il resto un po' di bibliografia grazie mille insomma sono stato lunghissimo e mi chiedo venia chiedo scusa ma mi auguro che ci sia anche spazio un po' di discussione ovviamente anche non oggi non stasera ma in futuro per poter in qualche modo applicare in modo più 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 concreto ecco i principi e le cose che vi ho detto vi ringrazio allora angelo anch'io ti ringrazio veramente moltissimo naturalmente ringrazio tutti ok ringrazio riccardo ringrazio francesco ok ringrazio te e colgo l'occasione per ringraziare anche tutti i precedenti relatori di questi seminari di euporia credo che oggi ok sia stato ribadito un concetto molto importante che sta un po' alla base anche di tutta la metodologia dell'euporia cioè che non ci si debba concentrare esclusivamente sui dati ma che si debba concentrare molto sulle operazioni che vengono fatte sui dati no quindi anche e soprattutto che non ci si deve concentrare sui dati come se fossero là fuori di noi ok ma come fra i dati e noi ci fossero comunque delle viste delle visioni delle prospettive no e che quindi sia sempre possibile costruire modelli diversi a partire dai medesimi dati in base ai diversi obiettivi ecco appunto che come abbiamo ripetuto spesso durante tutto il ciclo di webinars è molto importante partire prima di tutto dagli obiettivi di ricerca no e costruire dei modelli che siano adeguati agli obiettivi di ricerca che si vogliono raggiungere altro aspetto che mi è sembrato molto interessante di entrambe le relazioni è proprio la necessità di formalizzare cioè di costruire dei modelli che siano ad un livello di astrazione molto molto elevato dal quale discendono delle astrazioni come dire di un livello un po' più basso fino ad arrivare ai casi più livelli no e appunto come come ormai abbiamo visto anche da quanto ci ha detto Christian Dugat la volta scorsa ad esempio noi abbiamo un approccio che è il più possibile ermeneutico quindi un approccio che si fonda sul circolo ermeneutico in cui esiste quindi una circolarità fra la parte e il tutto ok esistono dei cicli di revisione e di revisione appunto esistono quindi ancora una volta delle prospettive diverse che si incrementano che crescono ecco quindi ancora una volta grazie a tutti quanti chiudo con una piccola sciocchezza che è questa lo spritz nella sua perfezione è basato sulla successione di Fibonacci in quanto ci vuole un'oliva uno shot di shells due parti di select e tre parti di prosecco ok volendo possiamo aggiungere cinque cubetti di ghiaccio e otto patatine benissimo allora se ci sono invece delle domande serie lasciamo spazio per due o tre una o due domande visto l'ora scusate io ne ho una veloce veloce tanto poi non so mai Angelo me lo dirà poi tanto già so hai tolto la registrazione no ecco vabbè tu hai parlato tu hai parlato di pattern strategici e pattern tattici sì però in genere almeno in antropologia la strategia è un qualcosa che va dall'alto in basso e la tattica è come il basso risponde alle imposizioni dell'alto c'è questa stessa direzionalità o no sì sì diciamo si applicano in momenti diversi ma sì perché i pattern strategici nel domain driven design si applicano in quello che si chiama problem space quindi in quella in quella quell'area si si applicano i pattern strategici per arrivare a capire come dividere le cose ok dopodiché nella parte implementativa quindi nella ciò che viene chiamato solution space si applicano i pattern tattici che sono quelli che prendono la strategia quindi colgono qual è stata la diciamo la la suddivisione e e l'analisi condotta e la implementano ok ok grazie io ho finito e sono finito grazie benissimo grazie veramente a tutti e grazie arrivederci ciao a tutti grazie ciao a tutti